benvenuti nel canale meni maden su come avrete letto dal titolo oggi un video all non sono tanti acquisti ma secondo me per tenerci in compagnia e magari per prendere spunto ho detto mi son detta perché no quindi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto sono stata da calliope date zenis ipercop ed obs dove parto da dove parto a parto da 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 ipercop sono uscite le nuove maschere di fria già ve le ho mostrate in super anteprima su instagram se non mi seguite su instagram fatelo perché li vi aggiorno su tutte le novità sia per quanto riguarda euro spin ma anche per tutte le novità che riesco a abbeccare in giro e su instagram la settimana scorsa vi ho mostrato le nuove maschere della fria io ho scelto una nuova maschera ed è questa ora mi avvicino così ve la faccio vedere quindi il pack è questo se riesco a trovare su internet le altre maschere nuove fria vi metterò una fotografia altrimenti pazienza comunque io le ho trovate da ipercop da acqua e sapone non ci sono stata quindi non so dirvi se li riuscite a reperirle ma è da ipercop sicuro fria k beauty inspired effetto super idratante idrogel applicazione in 15 minuti questa nello specifico si chiama finlandia con potassio lattato e derivati aminoacidi maschera in tessuto naturale biodegradabile prodotto in italia il pack è molto bello devo dire e poi è una maschera eco ok tessuto senza plastica la nostra scelta sostenibile quindi un po tutte le aziende stanno cercando di darsi da fare in questo senso è molto bella la maschera qui potete inquadrare il codice code che vi permette di scoprire la bellezza senza confini quindi mi sa che qui riuscite a risalire anche alle altre maschere allora non testa sugli animali la fria trattamento monodose è una nuova linea cosmetica ecco di maschere viso monodose che è stata sviluppata traendo dall'arte coreana dell'attenzione per i trattamenti cosmetici segreti naturali per donare benessere alla pelle grazie alla presenza di specifiche sostanze funzionali l'applicazione nel trattamento con il morbido tessuto biodegradabile della maschera restituisce all'epidermide tutta l'efficacia delle proprietà naturali grazie alla formulazione arricchita con potassio lattato ed uno specifico complesso aminoacido la pelle risulterà più idratata e si apprezzerà una maggiore sensazione di rinnovato benessere cutaneo test effettuati presso laboratori specializzati hanno dimostrato che l'applicazione della maschera favorisce l'aumento dell'idratazione media della cute fino a 24 ore dall'applicazione questo è tutto da vedere ed è tutto da provare rilassati con un'esperienza sensoriale lasciando di trasportare dalla musica la scoperta dei paesaggi straordinari quindi qui avete un altro code che vi permette di rilassarvi mentre effettuate la maschera secondo me questa è una coccola in più che la fria ha cercato di incorporare alla maschera che già di per sé comunque momento di coccola tutto per sé devo assolutamente provare a fare la maschera guardando questi paesaggi ed ascoltando la musica che fria ci propone quanto l'ho pagata il prezzo preciso non lo ricordo ma da hypercop l'ho presa in offerta se non erro ad 1,69 euro per provarla ci sta tutto il prezzo come era in offerta il senso dain io mi trovo solo con elmex e senso dain mi piace tantissimo anche il dentifricio equilibra e anche un altro marchio in questo momento non mi viene non mi viene in mente comunque se dovesse ricordare in fase editing vi metto qui il nome la fotografia comunque già ho dato ve lo ho fatto vedere su instagram ad elmex l'ho acquisto sia per me che per giulio e mi trovo benissimo poi ci sono diverse tipologie quella che acquisto sempre ha la scritta in verde chiaro questa volta ho preso di senso dain la versione complex daily care raccomandato dai dentisti italiani per i denti sensibili 24 ore di protezione dalla sensibilità con fluoro tutti i giorni sollievo e protezione totale ai denti e dei denti sensibili protegge dal dolore dei denti sensibili aiuta a mantenere le gengive sane e combatte la placca e le carie è la confezione da 75 ml questa è la lista ingredienti aspettate che vi metto anche la lista ingredienti della maschera anche il dentifricio l'ho preso in offerta come vi ho detto prima 2 euro e qualcosa per me il prezzo è quello e il dentifricio è questo soprattutto per chi ha problemi di gengive sensibili questo è veramente una manna è molto buono mi ci trovo benissimo quindi questi sono stati due acquisti che ho fatto da Ipercop ok ogni tanto cade il telefono dal cavalletto adesso è partita l'ambulanza comunque quando sento l'ambulanza non sono mai allora passiamo da OBS da OBS ho preso giusto tre cose no due cose allora ho preso i calzini a Giulio perché lui mi chiedeva i calzini di Spiderman 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 Harley di Spiderman use the bee did the bee tan 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 mi faccio anche lo stacchetto comunque mi faccio una capa di chiacchiera Spiderman 37 39 per 10-11 anni vabbè ciao lo dico domani 10-12 anni calzini antiscivolo io ho preso allora Giulio adesso porta il numero 30 in realtà sta tra il 30 e il 31 e da poco ha compiuto 5 anni è un batusso e io ho preso il 37 39 primo perché non c'erano i numeri precedenti ma siccome lui li mette a mo' di pantofola mette prima il calzino più sottile e poi mette questi a mo' di pantofola perché le pantofole lui le utilizza durante l'inverno ma quasi sempre non le utilizza non so se mi sono spiegata e quindi io preferisco prendergli i calzini antiscivoli questi più doppi così li utilizza a mo' di pantofolina comunque questi qui sono bellissimi e sono fatti molto bene pagati 4,95 anche la qualità del cotone è molto buona e vedete che qui tutti i gommini sono fatti benissimo non solo ci sono i gommini ma come potete notare i gommini sono rigati questo permette al calzino di essere particolarmente attaccato al pavimento e quindi facilita ancora di più la presa sul pavimento del piedino del bambino lo protegge ancora di più fateci caso perché non tutti i calzini antiscivolo hanno questa anche da stamattina la lavatrice i cosi di orecchio i cavalletti che scendono non tutti i calzini hanno questa peculiarità molto spesso hanno semplicemente i gommini e poi mi sono presa un vestitino ciao sono Melania e sono un amante dei vestitini ve l'ho sempre detto ve ne ho sempre parlato io li utilizzo tantissimo sia in estate che in autunno che in inverno perché vi permettono di vestirvi letteralmente in un minuto anche meno poi dipende dal vestito ma in genere un vestito si indossa velocemente in una mangiata di secondi e siete a posto sistemate e curate una bella calza una bella scarpa che sia più elegante che sia più casual chic o che sia come va a buio anche con gli ag sono perfetti e quindi in inverno io li stramo perché basta mettere un bel vestitino una calza quando fa particolarmente freddo una calza bella bella coprente un bel paio di scarpe un bel cappotto e praticamente siete pronte anche quando dobbiamo andare a prendere i bambini a scuola quando li dobbiamo andare a ritirare li dobbiamo ritirare ma che sono un upac scusatemi creature innocenti ma io sono un po' chicchi di chicchi e uno dice ma quanto ci vuoi fare il vestito? avete ragione allora io ho preso questo vestito vi lascio il codice così lo potete trovare su internet magari chi vuole acquistare online lo può trovare quindi vi lascio il codice l'ho pagato 16,95€ vabbè 17€ ho preso una taglia M ed è perfetta ed è questo il vestitino ha il collo bello stretto con questo motivo tutto arricciato e poi successivamente alla spalla ha questo piccolo volant che si va a chiudere vicino al braccio nella parte alta proprio del braccio quindi fa questo gioco letteralmente poi ha la manica abbastanza non è stretta ma abbastanza diciamo va a corpo e poi ha la manichina così leggermente a sbuffo che si restringe sul sul polso se abbassando così la luce riuscite a vederlo meglio perché comunque avendo la base scura vedete ha il colletto arricciato e poi ha questo volant ci mancava l'ape potete notare ha una base nera e poi ha questi rametti marroncini panna e queste bacche rosse cioè i tipici colori autunnali mi piace moltissimo perché quando voi andate ad indossare il vestitino vedete che esce fuori il rossiccio esce fuori questo rossiccio e secondo me alle ragazze dai capelli rossi o le ragazze acquistano bene i colori caldi secondo me è molto molto carino poi per questo prezzo appena l'ho visto ho detto non lo devo misurare e me ne sono letteralmente innamorata anche per esempio con uno stivale alto secondo me fa la sua figura è molto molto carino siamo da Calliope allora mi sa che questo già l'ho detto non sono un amante di Calliope per quanto riguarda proprio l'abbinamento in generale secondo me ha qualcosina c'erano per esempio dei maglioncini molto carini sto parlando di questa stagione ve li ho fatti vedere anche su Instagram molto molto carini avevano alcune delle trame bellissime ma corti corti e io non è che sia una ragazza una vatussa io sono 1,70 ho un'altezza assolutamente normale l'ho misurato uno e mi arrivava a fila all'ombelico cioè ma dove dovrei andare così togliamo l'età togliamo togliete tutto ok ma in inverno chi se mette questi maglioncini e la panza fuori anche perché ne volevo prendere uno per casa ma in casa ho detto che ci vuole un po' solo a 20-50 cm peccato perché comunque i maglioncini erano molto carini comunque qualcosa sono riuscita a scovarla e mi sono decisa a prenderlo in realtà io sono un'amante svegatata di questa tipologia di cappello con cosa l'ho associata l'ho associata alla francia è un cappellino bellissimo mi piace tantissimo il colore in realtà io amo sia il modello ma appena ho visto il colore perché ne volevo prendere uno diciamo abbastanza costosetto però rimandavo sempre l'acquisto perché comunque di cappelli ne ho tantissimi sia quelli più da battaglia sia quelli più diciamo più importanti quindi in realtà era un vero e proprio capriccio e siccome metto sempre giustamente prima giulio prima giulio prima giulio dicevo vabbè dai per uno sfizio spendere magari in questo momento la cifra aspettiamo magari faccio altro ma da Calliope li ho visti e come mia solita abitudine sono andata a controllare il materiale cioè come è fatto mi sono chiesta questo cappellino perché comunque costa poco stiamo parlando di 13 euro vediamo se riesco a trovare collana vedete è la linea collana vi lascio il tagliandino con il codice perché magari lo potete acquistare online sono andata a leggere stavo dicendo gli ingredienti allora guardate la percentuale di lana cioè per il prezzo che ha eh Navarro guardate cioè ha l'80% di lana poi il resto ha il 20% di poliamide 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 come si chiamano e poi ha tutto il bordino diciamo che abbastanza ben rifinito vi faccio vedere le cusciture vedete le cusciture sono fatte abbastanza bene cioè per essere un prodotto da 13 euro sono fatte abbastanza bene voglio dire e la percentuale di lana che lo accompagna mi son detta aspetta allora me lo prendo c'è in nero e forse in grigio non mi ricordo comunque in nero c'è di sicuro no c'è in un blu che verte al viola questo colore è il classico nero io sono stata indecisa tra quello viola blu e questo poi alla fine ha vinto questo qui perché secondo me è bellissimo questo colore ed è anche uno di quei colori che mi sta particolarmente bene ora lo indosso e vi faccio vedere se anche voi amate il basco alla francese sappiate che da calliope li trovate soprattutto li trovate ad un prezzo bassissimo veramente bassissimo cioè manco 15 euro con l'80% di lana ovviamente non sarà la lana più eccellente eccellente del mondo però voglio dire che fa la sua figura poi dobbiamo fare guardare questo pernacchietto mi è piaciuto moltissimo infine sono stata da date zenis date zenis sempre vi ho fatto vedere si può dire quasi tutti i pigiami che sono usciti a tema disney volevo prendere un pigiamino ma ripeto non ho avuto proprio il tempo di misurarlo perché poi ho detto vabbè se lo prendo se poi va largo se poi va stretto lasciamo perdere preferisco provarli perché mi scoccia tornare fare il cambio queste cose qui e quindi ho preso proprio due cose in croce allora mi sono ripresa un pantalone se non ero già ve li ho fatti vedere questi pantaloni che trovate date zenis mi piacciono tantissimo ce l'ho in nero in grigio nero in grigio basta poi altri modelli ma li ho acquistati in altri in altri posti comunque questa volta anziché prendere un altro pantalone nero ho preso un pantalone in blu anche il blu mi piace tantissimo non si direbbe ma è uno dei miei colori preferiti solo che non lo metto sempre perché secondo me cioè vedete secondo me non mi sta particolarmente bene ma essendo un capo che va sotto l'ho preso perché appunto lo riesco a sfruttare tantissimo allora innanzitutto vi faccio vedere il cartellino io ho preso una M vi faccio leggere anche il codice qualora vogliate dare un'occhiata online costano tutti 9,99 euro ci sono anche in fantasie c'era il maculato c'era il camouflage insomma c'erano diverse fantasie ed è un pantalone in 100% cotone questo è il cartellino che vi specifica che è realizzato in 100% cotone e questo è il pantalone ha la culisse in vita ideale anche secondo me ideale per tutti anche per esempio chi è in attesa perché avendo l'elastico riuscite a giostrare la larghezza della vita sembra nero ma è blu ha le tasche qui e poi scende abbastanza morbido sì abbastanza morbido diciamo che accompagna graziosamente la figura senza costringere e alla fine ha il polsino stretto che è quello che io prediligo soprattutto quando devo uscire non tanto per casa ma proprio quando devo uscire questi mi piacciono moltissimo sia da tenere in casa quindi mettete un maglioncino un maxi cardigan insomma qualcosa per casa con un bel pantalone e siete sistemate in ordine calde curate senza mettere che so il pigiama oppure altre tute deformi con un buon prezzo riuscite ad essere calde ordinate e sistemate anche a casa ma sono molto molto buoni anche per uscire che so quando andate per esempio di corsa accompagnare i bimbi a scuola oppure anche l'università insomma poi dipende dalla tipologia di lavoro però questo per esempio con una bella sneakers bianca oppure con che so una all star bianca oppure con una classica sneakers bianca in pelle insomma con un bel maioncino un bel cappotto avete presente questi cappotti che vanno anche tanto di moda i cappotti a vestaglia che per realtà è un classico secondo me fa la sua figura perché è questo sport chic in base a come lo abbinate che è molto molto carino quindi questa tipologia di pantalone è stra stra consigliata e poi restando in tema linea Disney mi sono presa questi calzini della linea Disney I Aristogatti a 2,99 euro ve li faccio vedere faccio leggere anche il cartellino dietro mi sono presa questi calzini che sono bellissimi sono grigi per esempio questi stanno benissimo con una bella sneakers bianca sotto secondo me bellissimi sono leggermente rigati sopra e poi sotto la trama è decisamente liscia ha il gattino sia da questo lato sia dal lato interno che dal lato esterno questo mi è piaciuto tantissimo perché di solito questa tipologia di calzino ha solo la parte esterna disegnata invece qui abbiamo il disegno internamente e esternamente sono cuciti molto bene come potete notare e sono bellissimi ho detto questi qui li devo prendere anche perché c'è il grigio che sta benissimo col blu ma anche questa punta di rosa sta molto bene lo trovo molto femminile e c'è anche il pigiama bellissimo proprio con con questa stampa sul sul rosa bello 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 e anche perché la tendenza vuole in questo periodo di far vedere proprio il calzino che esce fuori dalla dalla sneakers attenzione perché secondo me se non si sta attenti alla lunghezza al al materiale secondo me si cade un po' nel nel pacchianotto quindi secondo me va un pochino tutto giostrato e aggiustato come in tutte le cose è così ma secondo me l'effetto con i giusti accorgimenti è molto molto carino bene io ho finito i miei acquisti ve l'ho detto erano pochi è giusto per fare qualche chiacchiera spero comunque che vi siano piaciuti vi ricordo che mi trovate anche su instagram con il nick meli made in sud come sempre un bacio un abbraccio e un tarallino